Un caro augurio di buon anno a tutti i colleghi di Termoli Online e a tutti quanti i lettori di Termoli Online affinché questo 2022 possa iniziare sotto i migliori auspici e accompagnarci per un anno migliore. Buon anno a tutti! Siamo giunti al termine di un anno particolarmente difficile per tutti. Il mio augurio è che il 2022 sia un anno migliore sotto ogni aspetto. Auguri! Tantissimi auguri di buon fine anno e buon 2022 ai nostri lettori e alle loro famiglie. Auguri! Cari amici di Termoli Online, buon 2022! In questo periodo di incertezza tra speranza e sconforto vi auguro di ritrovare la serenità se l'avete perduta, di perseguire tutti i vostri buoni propositi e soprattutto di avere tanto ottimismo per immaginare che questo nuovo anno sia finalmente migliore degli ultimi due, un anno di salute dell'anima e del corpo. Buon anno a tutti! Salve a tutti, Valentina Cocco per Termoli Online. Volevo ringraziarvi per averci seguito in quest'anno particolarmente difficile per tutti e inviare un abbraccio alle persone che hanno perso un proprio caro. Spero che nel 2022 possiate fare tesoro di ogni singolo momento. Buon anno! Amici e lettori di Termoli Online, tanti cari auguri per un anno nuovo felice da Michele Trombetta. Noi a questo 2022 chiediamo soltanto che ci porti tanta normalità perché è di quello che abbiamo bisogno dopo tutto quello che ci sta accadendo addosso. E allora, semplici parole e auguri, auguri di un 2022 pieno, pieno di normalità. Da Michele Trombetta per Termoli Online. Auguri! Cari amici lettori di Termoli Online, da Emanuele Bracone un sincero augurio per questo 2022 e sinceri auspici affinché possa restituirci quella normalità che abbiamo smarrito da due anni a questa parte e soprattutto quella serenità che ci permetta di condividere insieme tanti momenti positivi. Momenti che speriamo di scandire quotidianamente con la nostra testata e sempre accanto a tutti voi. Auguri di nuovo! Amiche e amici di Termoli Online, buon anno! Come spesso capita in questo primo giorno dell'anno siamo carichi di desideri, uno su tutti che questo 2022 possa essere finalmente l'anno durante il quale ci mettiamo alle spalle questa maledetta pandemia. Ognuno di noi ha dei desideri, dei propositi, meglio sarebbe se fossero degli obiettivi che come ha detto qualcuno sono dei sogni che hanno una scadenza. Ebbene il mio augurio per questo 2022 è che ognuno di voi possa realizzare i propri obiettivi. Auguri a tutti di buon anno!